meno 85 per cento un numero che riassume meglio di qualsiasi altra parola il tracollo vero e proprio del mercato dell'auto in italia che se vogliamo il fisiologico data la paralisi imposta dal lockdown per il coronavirus ma che diciamo è molto importante e avrà delle conseguenze pesanti dei numeri in dettaglio non vogliamo parlare ancora nella misura in cui l'abbiamo già fatto appunto sulle pagine di motorone.com vogliamo però soffermarci su quello che è il valore il peso del mercato dell'auto per il sistema italia per il nostro paese sono qui con michele crisci che è presidente dell'urra è l'associazione che riunisce i costruttori esteri proprio per analizzare un po' meglio questo aspetto perché che l'industria dell'auto sia importante lo si difende spesso ma probabilmente le dimensioni numeriche non sono così chiare al pubblico quindi michele ce le puoi riassumere tu ma sì secondo me ci sono due valori importantissimi che sostanzialmente delineano la centralità del mondo dell'auto e dei trasporti in generale in un paese e in questo caso specifico in italia in italia il valore della distribuzione dell'auto con tutti i suoi addentellati economici intorno pesa più o meno il 10 per cento del pil del nostro del nostro prodotto interno lordo quindi stiamo parlando di un valore enorme a fronte del quale peraltro si genera un un gettito per per le casse dello stato di circa 80 miliardi di euro all'anno quindi un settore che oltre a essere centrale perché l'ho dimostrato anche in quest'ora in questi giorni drammatici ha dimostrato l'importanza dei trasporti noi oggi riusciamo andare ai supermercati riusciamo andare in farmacia grazie alle aziende di trasporti i trasportatori e i driver che nonostante il pericolo percorrono chilometri vengono presso la nostra città a servire ai nostri supermercati ma dicevo a parte questa centralità fisica i trasporti sono l'asse portante di una nazione in un paese c'è anche un discorso economico che appunto sottolineavo che va assolutamente considerato che è il motivo per cui normalmente tutti i governi l'ultima l'ultima ora è proprio il governo cinese che ha preso la decisione di introdurre incentivi fortissimi sul mercato cinese dopo la riapertura appunto del paese della cina dopo il coronavirus proprio dicendo il settore dei trasporti il settore dell'auto è un settore portante dell'economia cinese non possiamo farne farne a meno ecco per cui questo è il motivo e questi sono i numeri che più o meno dettagliano l'importanza di un settore come il nostro un settore che ha fatto da casa di un mobilistico evidentemente ma questi numeri sono generati soprattutto dalla filiera dalla cosiddetta filiera che significa le aziende che in qualche modo lavorano ma a contorno che sono tantissime i concessionari sono forse la rappresentazione più facile da capire per il pubblico ecco il concessionario anche la catena diciamo è l'anello della catena più deboli di tutti che in questo momento soffre soffre di più e c'è un problema di liquidità su questo come ci si sta muovendo ma ci si sta muovendo direi nella direzione giusta al momento giusto per per dare un'idea di cosa stiamo parlando il concessionario in italia sono circa 1500 più di svariate migliaia di officine autorizzate e la copertura diciamo territoriale impone un'occupazione intorno ai 150 mila 160 mila occupati quindi vuol dire 160 mila famiglie che dipendono dalla distribuzione dell'auto e dei trasporti in generale i veicoli commerciali e i veicoli industriali compresi il problema della liquidità è un problema che è arrivato gigantesco ed improvviso dalla sera alla mattina e io dico sempre che non è neanche paragonabile con la crisi che abbiamo avuto i tempi di Lehman Brothers perché a quell'epoca anno su anno c'è stato un decremento di tutti i valori economici finanziari e di business in generale fino a tocare livelli bassissimi ma questa volta il tutto è successo sostanzialmente dalla sera alla mattina quindi la crisi di liquidità si è venuta a generare immediatamente da 100 a 0 i nostri accessori e noi perché non ci dimentichiamo che noi facciamo parte della catena di distribuzione sostanzialmente non stiamo fatturando auto da circa un mese e da quello che risulta probabilmente non fattureremo auto neanche per questo mese quindi per il mese di aprile nella migliore dell'ipotesi la crisi di liquidità è quindi drammatica perché a fronte di una totale assenza di fatturato ci sono invece i costi i costi finanziari i costi personale i costi delle spese generale i costi tributari quindi quello che noi chiediamo e penso che da quello che capisco insomma sarà recepito dal governo è un intervento importante a punto di vista della liquidità un intervento che dia una facilità d'accesso al credito alle aziende in questo caso le aziende concessionarie e che dia la possibilità che questo credito sia garantito naturalmente dallo stato e che sia restituibile diciamo nei prossimi 5-10 anni con con interessi assolutamente accettabili questo è un tipo di liquidità fondamentale perché non avrebbe non avrebbe nessun valore riuscire a passare questo momento di crisi per poi trovarsi senza operatori e senza famiglie e con un numero di disoccupati molto molto più alto e con famiglie in grande sofferenza è chiaro voi avete fatto anche delle proposte di aumentare la soglia dei cosiddetti ecobonus degli incentivi ampliarli abbiamo riparlato abbiamo parlato anche di questo insomma trovate l'articolo questo lo dico a chi ci guarda insomma il link in sovrimpressione nella descrizione del video quindi un aumento diciamo delle auto che possono essere interessate all'ecobonus e quant'altro avete fatto anche due scenari che adesso magari andiamo in grafica in sovrimpressione di come si potrebbe muovere il mercato dopo il lockdown uno scenario un po più positivo uno scenario meno meno negativo peggiorativo e uno meno meno negativo però la la cosa che mi sfugge che probabilmente difficile dare una risposta è se secondo voi ci sarà e come cambierà la domanda di automobili perché si parte dal presupposto che il mercato si possa riprendere no grazie appunto questi interventi questi questi queste agevolazioni più o meno forti anche sul comparto dell'auto aziendale però se ci sarà una recessione ci auguriamo tutti non non troppo forte ci sarà un po un po in impoverimento del mercato tendenzialmente quindi secondo voi questo come potrebbe influire sulla scelta dell'auto sulla scelta dell'auto nuova sulla scelta eventualmente di altre tipologie di auto altri canali potrebbe potenziare ad esempio il mercato dell'auto usata avete qualche avete già fatto qualche previsioni da questo punto di vista beh sicuramente consideriamo che in tutto questo la logistica avrà un peso questo naturalmente va considerato perché è vero che cambieranno i costi dei clienti ne parliamo tra tra un attimo però resta resta il fatto che quello che i concisionari potranno immediatamente vendere immediatamente fatturare è sostanzialmente quello che hanno in stock perché ahimè a fronte della chiusura del lockdown in italia ci sono stati anche tutti i lockdown in europa dove dove ci sono le nostre fabbriche quindi dalla germania alla francia alla svezia all'inghilterra le fabbriche sono state chiusi ovunque anche negli Stati Uniti ehm fortunatamente hanno riaperto quelle quelle cinesi eh però è chiaro che eh si sa che quando poi riaprono le fabbriche le fabbriche riaprono non a pieno regime semplicemente perché i suppliers devono prima ehm arrivare a pieno regime loro in modo tale che poi le fabbriche di assemblaggio arrivino anche a pieno regime quindi ci sarà un ulteriore piccolo delay nel portare nel mercato italiano le macchine che erano in costruzione che saranno in costruzione nei prossimi mesi quindi ci sarà lo stock lo stock che peraltro sarà diventato pesante e anche sarà stato si si comporrà anche di auto usate quindi da un lato l'offerta sarà quella eh la domanda eh certamente potrebbe cambiare potrebbe cambiare perché comunque la sensibilità verso le nuove motorizzazioni ehm aumenterà però aumenterà in ragione del fatto anche del costo di queste nuove di queste nuove tecnologie questo motivo per cui noi abbiamo chiesto di introdurre una terza fascia ehm relativamente la CO2 per poter introdurre all'interno del piano degli incentivi delle vetture che abbiano dei costi un pochino più limitati io credo che il pubblico sarà molto interessato anche ai sistemi finanziari d'acquisto perché noi ricordiamoci che la liquidità non è solamente un problema dell'impresa ma è un problema anche del cittadino del privato quindi ovviamente i sistemi finanziari saranno molto importanti potrebbe sicuramente prevalere in futuro ancora di più la scelta di avere un costo un costo d'uso piuttosto che un piuttosto che un prezzo d'acquisto che ovviamente comunque sia parliamo di valori sempre impegnative a seconda delle tasche delle siccole persone delle siccole famiglie però è evidente che un costo di utilizzo che sia una forma di no letto che sia una forma di abbonamento che sia una forma eh diversa però potrebbe essere preferibile quindi è ben possibile che il mercato per un periodo si sieda verso valori un po' più bassi in termini di prezzo per poi ripartire questo è il motivo per cui abbiamo anche chiesto un un pareggiamento del del dei registri fiscali con l'Europa ed è assolutamente possibile che ci sia una una richiesta di sistemi di finanziamento di noleggio che permetta al cliente di avere dei costi mensili più bassi però credo anche che eh comunque il trasporto su gomma eh per lunghi mesi alla fine della crisi sarà il trasporto eh prediletto eh dagli italiani ricordiamoci sempre che ehm per lungo tempo dovremmo probabilmente eh avere delle accortezze mettere la mascherina mantenere le distanze rispetto alle persone con cui socializziamo e sicuramente la vettura in questo caso sarà sicuramente preferibile rispetto a altre tipologie di trasporto mi riferisco ai treni o agli aerei quindi se un altro in un raggio di percorrenza accettabile la vettura tornerà ancora più centrale di prima. Su questo sono d'accordo e c'è una sorta di paradosso cioè una domanda aumentata di automobili avremmo più macchine in giro probabilmente anche più traffico purtroppo e sotto certi aspetti anche più inquinamento eh perché come dicevi tu eh si utilizzerà un mezzo di trasporto più individualista e in cui ci si sente più protetti però bisogna ammettarlo con questo impoverimento eh che potrebbe essere purtroppo la conseguenza della crisi economica che un po' ci aspetta quindi sì bisognerà vedere un po' come si evolve e mi rendo anche conto che non è facile fare previsioni in questo in questo bisogna capire quanto durerà ancora questa fase perché da questo sicuramente sai anche i costruttori cercheranno di venire incontro ai clienti nel senso che è interesse di tutti che il motore si riprenda e che si riprenda per produrre fatturati e liquidità come dicevamo e come dirò sempre anche quando ci portiamo alle istituzioni non si può pensare siamo assolutamente grati che ci siano questi piani di rinforzo per quanto riguarda la liquidità ma non si può pensare di essere perennemente sorretti da piani di rinforzo al contrario si può invece pensare bisogna pensare in modo strategico che uno stimolo alla domanda sia in grado di generare di generare quei flussi di fatturati di liquidità per sistemare le cose. Un'ultima battuta sulla transizione energetica hai già accennato questo discorso che voi comunque volete allargare le maglie perché il sottointeso è che un'auto elettrica o plug-in costa necessariamente di più in una fase di ripresa in una fase di diciamo di crisi economica non è facile trovare quel numero di clienti che serve per sostenere una domanda in questo senso. La posizione dell'URRAI qual è? Sempre neutralità tecnologica? Sempre neutralità tecnologica consideriamo che la terza fascia che noi abbiamo individuato è comunque una fascia che sta al di sotto di quelli che sono i parametri imposti dell'Unione Europea quindi abbiamo chiesto di valutare la possibilità di introdurre una fascia tra i 61 e i 95 grammi di CO2 il motivo è perché in quella fascia intanto si trova quasi un 20% di mercato cosa che garantirebbe una scelta ai clienti perché vi ricordo che oggi gli incentivi che sono disponibili sul mercato coprono una fascia intorno al 2% quindi dobbiamo allargare la fascia per dare più accessibilità ai clienti privati e alle aziende quindi aggiungendo una terza fascia sia pur nella neutralità tecnologica ma sotto i 95 grammi ci sembrava una soluzione assolutamente intelligente immaginando che in un momento come questo la sostenibilità ambientale che deve rimanere un'asse fondamentale della strategia del mondo dell'auto e in generale di tutte le industrie però in questo momento non può non sposarsi assolutamente con la sostenibilità economica quindi da un lato abbiamo bisogno di rilanciare il mercato dall'altro abbiamo bisogno anche di dare al cliente, ai cittadini, alle aziende la possibilità di cambiare il proprio parco circolante e acquisire tecnologie più moderne che assolutamente esistono tra i 61 e i 95 grammi di CO2 e sono assolutamente in linea con le richieste dell'Unione Europea e questo poi è il grande dilemma anche l'Unione Europea si sta da questo punto di vista interrogando sul discorso delle famose multe sulla CO2 se sospenderle o meno e qui c'è, l'hai riassunto bene, rallentare un po' questa transizione o comunque per non bloccare completamente il mercato perché altrimenti si ferma tutto e su questo le opinioni sono discordanti quindi bisognerà vedere anche perché poi ogni continente si muove al modo suo, l'Europa ha un certo approccio gli Stati Uniti con Trump ne hanno un altro ancora, un po' più come dire estremo da altri punti di vista quindi vedremo, insomma grazie per questo confronto e direi in bocca al lupo a tutti Grazie, grazie mille, buona giornata A presto, grazie Grazie Grazie